Derisio Lazzcano e il difensore Mario Ierardi, classe 98, ex Sud Tirol e Ravenna, in prestito secco dalla Vicenza Operazione. Da noi è anticipata lunedì sera, ufficializzata questa mattina dal club biancozzurro, difensore di struttura, marcatore, forte nei contrasti e nel gioco aereo, ma non rapido, più o meno lo stesso passo dei centrali già presenti in rosa. Il Messina strizza l'occhio a Giuseppe Rizzo, messinese doc che nel contempo è attenzionato dal Foggia di Pavone Zeman, non proprio per caratteristiche un giocatore adatto o funzionale al credo del Boemo. Insomma il mercato in uscita non si sblocca, non ci sono sviluppi neanche su Marilungo che piace alla Prosesto, Galano e Bocic. Per il reparto avanzato interessa soprattutto Samuele Longo del Vicenza, punta centrale con altre peculiarità rispetto a Ferrari, ovvero più tecnico e incline ad attaccare la profondità. Anche duttile perché si adatta bene a fare l'esterno, comunque atipico nel 3-4-3 di Auteri. C'era l'incastro con Veroli che piace ma non andrà a Vicenza, l'ingaggio di Longo è oneroso. Se l'ex Venezia decidesse di scendere di categoria dovrebbe partecipare agli emolumenti il club veneto e la condicio sine qua non. Tra gli obiettivi anche Boccalon classe 89 del Venezia ma davanti arriverà qualcuno a patto che si sblocchino le uscite di Marilungo, Galano ma anche di De Marchi che in C a mercato piace alla Lucchese e soprattutto al Sud de Tirol. Il Teramo ha ufficializzato la cessione di Birligeal Clugi, club capolista del massimo campionato rumeno, contratto sino al 30 giugno 2025. Il club bianco-rosso conserva tuttavia il 40% sulla rivendita futura del classe 2000 rumeno. Mungo Viterbese, siamo ai dettagli, salvo sorprese. Il centrocappista che sarebbe voluto restare alla corte di Guidi si legherà oggi al club laziale sino al 30 giugno 2023. In entrata il DS bianco-rosso Sandro Federico dovrà completare la prima linea con due esterni di cui uno capace di giocare anche da riferimento centrale.